Benvenuti alla sesta edizione di Non Solo Calcio, un saluto da me Barbara Canere e vado a presentare i miei compagni d'avventura. Lo conoscete, il dottor Sollo, Vincenzo Sollo, è un piacere ritrovarti. Ciao Vincenzo. Grazie mille e benvenuti a tutti quanti. E abbiamo l'onore, il piacere di avere un inviato molto speciale. Infatti, quando il pubblico di Non Solo Calcio sentirà il suo nome, sarà sicuramente un'ovazione. Salvatore Gisonna! Buoni, buoni, no, 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 non voglio far succedere. Ma come ci sono tutte queste donne qui oggi? Ma tu hai fatto troppa pubblicità a questa cosa, io te l'ho detto, tienilo per te, tienitelo per te. Non è la più segreta questa. Non l'hai voluto dire, niente, lo scotto della popolarità, come può fare, non mi sapeva nessuno. Però buonasera, pubblico di Non Solo Calcio, è un piacere condividere con voi questa sesta edizione. Allora, diciamo al nostro pubblico che tu sarai il nostro inviato speciale, molto speciale, e andrai, insomma, a rompere le scatole agli amici artisti. È una cosa buona questa fa cosa? Eh, io, Vincenzo, pensiamo di sì. Oltre il video, Salvatore, oltre il video, eh, mi raccomando, scopa le cose che gli altri di solito non dicono. Cosa ha detto? Scopa le cose. Scova, scopa, scopa le cose che non dicono. Noi ci proviamo, facciamo questo inviato particolare di Non Solo Calcio. Ne vedremo delle belle, ne vedremo delle belle. Ecco, allora amici, avete capito che questa sarà un'edizione davvero scoppiettante. Allora noi ci ritroviamo dopo, adesso pubblicità. NoCon Offici Data I grandi sogni cominciano da piccoli. Sei dai 5 ai 13 anni. E' arrivato il tuo momento. Iscriviti alla Scuola Calcio Smedile Calcio, affiliata con l'Udinese Accadone. Al tuo fianco un team qualificato di istruttori, medici, psicologi e nutrizionisti. Coltiva la tua passione. Diventa un calciatore. Scendi in campo e trasforma la tua passione in una professione. Smedile Calcio. Scendi in campo e trasforma la tua passione. Scendi in campo e trasforma la tua passione. Grazie a tutti.